emergono nuovi interessanti dettagli sull'attuale situazione sentimentale di Gerard Piqué che a quanto pare potrebbe essere meno scontata di quello che si potrebbe pensare si era infatti detto che il bomber catalano si fosse ufficialmente messo insieme alla modella Clara Chia conosciuta mentre lei lavorava nella comunicazione della società fondata dal calciatore tuttavia nelle scorse ore sono spuntati online nuovi interessanti gossip che cambierebbero un po' le carte fino a questo punto la storia è nota da ormai un paio d'anni come minimo dal 2021 Gerard Piqué faceva le corna a Shakira con la nuova compagna Clara Chia che di recente ha anche presentato ai suoi genitori il calciatore tra l'altro si era fatto sgamare in compagnia dell'amante nel corso di una diretta su Twitch dove la Chia era apparsa alle sue spalle senza rendersi conto di nulla tutto questo mentre Shakira era in giro per il mondo per lavoro eppure secondo gli ultimi pettegolezzi sembrerebbe che Shakira si sia già presa la sua personale rivincita si dice infatti incredibile ma vero che Gerard Piqué sia riuscito a cornificare a tempo di record anche la stessa Clara a raccontarlo ma sono dichiarazioni da prendere con le pinze è stato il giornalista e paparazzo Giordi Marti da tempo supporter di Shakira e fra i più accaniti hater di Piqué sul suo profilo Instagram ufficiale nelle scorse ore Marti ha lasciato intendere che Piqué si starebbe frequentando con un'avvocatessa di nome Giulia Puig di cui è noto anche il profilo Instagram ufficiale neanche a dirlo è un'altra donna bellissima la riconosci Gerard poi non ti stupire se Shakira te ne dice di ogni ha scritto il reporter pubblicando una foto della donna qui uno degli scatti della presunta nuova amante di Piqué Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti